Lo dico a tutti gli imprenditori innanzitutto del trevigiano o trevisano che dir si voglia e tutti gli imprenditori veneti. Attenzione, attenzione alle false sirene. Questa è una riforma dell'autonomia differenziata che voi che fate impresa vi ritroverete con 20 sistemi diversi di regolazione. Si rivolge direttamente al mondo dell'impresa il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che da treviso boccia senza appello la riforma a Calderoli per l'autonomia differenziata non solo inutile fa intendere ma pure dannosa e questo a poche ore dal nuovo passo in avanti segnato dal disegno di legge con il parere favorevole della Presidenza del Senato. Vogliono l'esempio spagnolo ma siete mai andati in Spagna, avete mai parlato con i nostri colleghi, con i politici, con i cittadini spagnoli. L'autonomia spagnola sta creando tantissime difficoltà. Se quello è l'esempio io dico un disastro, un disastro a cui dobbiamo assolutamente rimediare. La priorità per l'ex Presidente del Consiglio piuttosto è mettere a terra i progetti del PNRR oltre 200 miliardi di euro, centinaia di migliaia solo per la marca trevigiana. 800 milioni di euro per questa realtà, per questo territorio sono fondamentali. Se noi non riusciamo a spendere questi soldi e purtroppo anche ieri il Ministro Fitto è venuto in Parlamento e ha anticipato che siamo già in questa condizione, è una perdita per questo territorio ma per l'Italia intera. È una perdita che non ci meritiamo. E a proposito di investimenti, il leader 5 Stelle si dice preoccupato dalle nuove linee guida del patto di stabilità europeo. Troppi paletti per i paesi più indebitati come il nostro. Ma sotto la loggia di 300 in tour elettorale, tanti sono i cavalli di battaglia, dignità del lavoro, settimana corta, reddito di cittadinanza. In particolare Conte è tranchant sulla politica fiscale dell'esecutivo Meloni. Dopo che gli offrite queste autostrade preferenziali, ma chi è quel cretino che pagherà le tasse? Così loro distruggeranno il paese. Se continua così, dopo un'intera legislatura ci consegneranno un paese disastrato. Grazie a tutti.